Nuovo scontro tra l'amministrazione comunale di Capodorlando e le ferrovie per la chiusura del passaggio a livello di via Cordovena, un braccio di ferro che finisce sul tavolo del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania. Secondo RFI, infatti, il comune ha reo di continuare a ostacolare la chiusura del passaggio a livello, ubicato in una zona nevralgica della città. La vicenda risale a una quindicina di anni fa, quando Ferrovie Italiane, nel piano di soppressione in tutto il territorio nazionale dei passaggi a livello, decise di chiudere quello in via Cordovena e di conseguenza far scomparire anche il collegamento stradale che dalla consolare antica porta a via Trazzera Marina. In cambio, grazie a un accordo sottoscritto nel 2004, il comune avrebbe dovuto realizzare un cavalcavia tra la via Muscale e piazza Trefilò. L'opera, dopo diverse traversie dovute a un incidente avvenuto in cantiere, è stata inaugurata poco meno di un anno fa. Da allora RFI reclama il diritto di ultimare il suo intervento in via Cordovena. Dopo numerose lettere tra la società e il comune, era stato programmato di eseguire la soppressione del passaggio a livello lunedì mattina. Il sindaco però ha emesso un'ordinanza con la quale blocca tutto. Dal canto suo, RFI non reputa coerente quanto disposto dall'ordinanza emessa dall'amministrazione Sindoni e ha già dato mandato al proprio ufficio legale di presentare il ricorso al TAR.